Fate largo! L'uomo martello è qui! Sì! Sai quella cosa che dici prima dei miei combattimenti? Quale? Ah, vuoi dire il mio campione con un colpo ti spezza le ossa? Sì. Non dirlo. Allora figli e figlie di puttana, siamo arrivati all'evento Clue! Quindi, senza altri convenevoli, vado a presentarvi direttamente da Scala Island, conosciuto da tutti per la sua apparizione in cima all'Empire State Building, dal quale ha battuto Erei e quant'altro. Il primato che viene da lontano, l'uomo martello! Silenzio, buoni, buoni! Zitti un attimo, all'altro angolo, il nuovo astronoscente che ha già fatto un sacco di soldi, l'artista del K.O. che ha atterrato professionisti come fossero più belli al primo incontro, il fratello con la morte nella mano, il campione, chiamato così perché... Perché è un campione dalla nascita! Boom! E ora a voi, barbari edonisti! Dateci dentro! Il fratello! Ciao! Va fuori! Cazzo, ti ha fatto assaggiare il suo piedino, eh, stranza? Sì, 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 vado a prendere i soldi, state tranquillo, prendo i soldi.